Come ieri anche stamattina, la giornata è partita male al lab di Cremona Fiere. Sono state solo 58 su circa 600 dosi disponibili le persone contattate da Aria Lombardia che si sono presentate per la vaccinazione anti-covid a causa del mancato invio degli sms da parte della società della regione che gestisce le prenotazioni. Per non dover buttare via i vaccini, nuovamente è intervenuta l'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona che direttamente ha convocato gli eventi diritto, ovvero tante, personale scolastico e a mezzogiorno sono state 133 le vaccinazioni eseguite. Quindi anche oggi i medici e infermieri hanno atteso in vanno gli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma. A differenza di ieri però, quando l'azienda sociosanitaria aveva invitato attraverso messaggi WhatsApp la popolazione ovvero tante e personale scolastico a recarsi a fare la vaccinazione, oggi il messaggio è stato opposto. Nessuno deve raggiungere la fiera senza prenotazione. Una disorganizzazione, quella di AIA, che è stata pesantemente criticata da chi in regione si dà l'opposizione ma anche dalla stessa Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare. Una situazione che secondo il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è paradossale. Ma guardi, effettivamente questa è stata una settimana da tregenda perché è iniziata con situazioni cotiche, soprattutto nel Cremasco dove i cremaschi over 80 venivano dirottati a Cremona ma soprattutto a Casal Maggiore che, come è noto, dista a un centinaio di chilometri da qui. Già lì ci siamo resi conto che il problema era proprio la piattaforma gestita da AIA perché le responsabilità non erano né della nostra SST né tantomeno della TS Valpadana. AIA è un'azienda regionale nominata da Regione Lombardia sotto legida di Regione Lombardia con la quale Regione Lombardia ha un contratto, quindi qualcuno dica all'assessore Moratti che è il capo e quindi non ha solo il diritto ma il dovere di intervenire e porre un rimedio. Siamo veramente in una situazione surreale, cioè la Lombardia ancora una volta dimostra che il mantra dell'eccellenza era solo tale, era una favola bella nella quale nessuno crede più. La gestione delle prenotazioni dei vaccini da parte di AIA dovrebbe passare a posti italiane solo dopo la fine dei vaccini agli over 80, cioè verso fine mese.